... A RINGA? Grazie dottore! Dato che la minutezza delle parti rallentava notevolmente il mio lavoro, decisi di fare una creatura dalle dimensioni gigantesche. Ma certo! Questo semplificherebbe tutto! D'altre parole, le fene, i pieti, le mani, tutti gli organi dovrebbero essere incrantiti. Esatto! Allora avrebbe un enorme spawn, Stuker! Questo... questo è evidente! Oh! Diventerà molto popolare! Dunque, ciò che vogliamo ottenere è un essere alto circa due metri e venti, con caratteristiche che risultino tutte naturalmente o artificialmente proporzionate. Vuol dire più o meno così? Guarda! Hai colto lo spirito, lo sai? Grezzo sì, primitivo sì, magari perfino grottesco. Eppure qualcosa di inesplicabile mi dice che questo potrebbe essere il nostro uomo. è tutto bene! No, sottotitoli.